L'Istituto Alberghiero rischia la chiusura di tre classi dei corsi serali. Se ne è parlato anche in Consiglio Comunale. Il consigliere Salvio ha espresso la propria opinione ai microfoni di TGA. Veda quello che sta succedendo per l'Istituto Alberghiero di Alghero e quello che sta succedendo un po' in tutte le scuole d'Italia. La situazione può sorprendere solamente chi è stato poco attento a quanto si stava facendo a livello governativo rispetto alla scuola. Noi dell'opposizione abbiamo denunciato anche qui in Consiglio Comunale come la logica sulla quale veniva impostata la cosiddetta razionalizzazione del sistema scolastico era la logica dei numeri e la logica del fare cassa. Questo comporta di fatto che la logica in base alla quale si vanno a formare le classi è ormai solamente il dato numerico. Si divide il numero degli iscritti per 27 e il risultato della divisione è quello delle classi che saranno attivate. Al di là di ogni ragione storica, di ogni opportunità di carattere sociale che determinerebbe e determina senz'altro la permanenza, la necessità di far rimanere una istituzione scolastica, di mantenere una istituzione scolastica o cancellarla. La logica, ripeto, è quella la logica dei tagli perché bisogna rientrare in un budget economico prestabilito e che quindi non fa salve le tipologie e le peculiarità dei territori. E quindi per una realtà come quella algerese, cancellare classe del serale nell'istituto alberghiero che è la realtà formativa che risponde ai bisogni formativi di una città a grande vocazione turistica è di per sé una ignominia, una vergogna, una situazione che assolutamente non ha senso logico, non ha senso politico, sicuramente non ha significato sociale.